Coniglio Pasquale e il semaforo scontroso di Stefano Bordiglioni, Lucia Salemi e Medizione. Coniglio Pasquale attraversa la città con il suo camioncino giallo carico di uova di cioccolata. Fra poco sarà Pasqua e lui si prepara a nascondere le uova nei giardini delle case dove vivono dei bambini. È una bella giornata di sole e le vetrine dei negozi e le finestre brillano e ridono. Per le strade c'è poco traffico. Miglio Pasquale guida e fischietta contento. A un tratto però è costretto a rallentare. Un semaforo ha l'occhio rosso acceso e non gli permette di passare. Coniglio Pasquale, che è molto rispettoso delle regole del traffico, si ferma e aspetta. Il semaforo però non cambia colore. Il tempo passa e l'occhio rosso non si spegne. Coniglio Pasquale comincia a perdere la pazienza. Insomma, ha molto da fare. Vuoi farmi passare sì o no? Dice al semaforo. No! Gli risponde quello rigliando. Da qui non si passa! Coniglio Pasquale grana gli occhi sorpreso. Perché non ha mai incontrato un semaforo così scontroso. Ma non puoi farmi questo! Ho un sacco di uova da nascondere! Accendi il verde, per favore! Se vuoi passare prima, devi rispondere correttamente a tre indovinelli. Dice il semaforo, con l'occhio rosso, cupo e minaccioso. Uno. E cos'è che non è quello che sembra, però è anche quello che sembra? Due. E cos'è vuoto, però è anche pieno? E infine tre. E cosa contiene un mistero, che però tutti conoscono? Coniglio Pasquale trova questa cosa degli indovinelli davvero strana. Non gli era mai capitato di fermarsi a un semaforo così complicato. Comunque, non può certo passare corrotto. E non vuole né litigare né fare brutta figura. Così si mette a pensare, e per pensare meglio, smangiucchia un pezzetto di cioccolato. Chi sono? Dice a un tratto contento. La risposta al primo indovinello è uovo di Pasqua. Infatti, un uovo di Pasqua sembra un uovo, ma non è davvero un uovo come quelli di gallina. Però sembra un uovo di cioccolato, e lo è davvero. Il semaforo grugnisce, scontento, e il rosso dell'occhio sbiadisce. La risposta al secondo indovinello, invece, è uovo di Pasqua. Infatti, un uovo di Pasqua è vuoto, però ha dentro la sorpresa. Il semaforo diventa giallo, con un singhiozzo. La risposta alla terza domanda, invece, è uovo di Pasqua. Infatti, tutti sanno che nell'uovo di Pasqua c'è una sorpresa. Però nessuno, finché non lo apre, sa di che cosa si tratti. È un piccolo mistero. Il semaforo scontroso diventa verde, e comincia a piangere come una fontana. Mai nessuno aveva risolto i tuoi indovinelli finora. Il paniglio Pasquale, per consolarlo, gli offre un ovetto di cioccolata, con la carta lucida, gialla, rossa e verde. Poi, riparte col suo camioncino giallo e le sue uova di cioccolata. I bambini della città lo aspettano. C'è narrante la maestra Fuffi.